Dalla prima azione andiamo indietro perché abbiamo disarmato i due tedeschi che erano sulla ferrovia, sul ponte ferroviario della via Emilia. Erano in due che erano giovanissimi, due ragazzi, e con Fiorello siamo andati. Fiorello aveva la pistola perché era scappato da Carabiniera e da Ligoslavia e una di legno, fatto uguale, l'aveva fatta lui e in bicicletta di sorpresa siamo arrivati dietro quei due lì, ci abbiamo puntato la rivolterra nel collo, hanno lasciato le mani, abbiamo preso pistola, il P-38 e ci sentivamo armati. La riunione dei fratelli Cervi l'abbiamo fatta in mezzo ai campi che si parlava dei compagni che loro volevano andare in montagna perché temevano infatti. La casa sua era un po' diciamo una casa di latitanze nel senso che ospitavano un po' forse un po' troppa gente, anche i stranieri che scappavano, soldati stranieri, insomma anche degli stranieri che non conoscevano magari che poteva esserci dentro una spia. Sono stati in montagna e poi sono tornati giù loro e infatti tornati giù hanno aperto un po' troppo le porte che è successo qualche successo purtroppo.